Ciao ragazzi, qui Ema dei Lost Forgotten Gamers E Arthas! Sempre Arthas, è un buon vecchio Arthas Cominciamo con una mappa di Slender Prison! Il nome molto interessante Sembra un ottimo ambiente per Slendy, effettivamente Vediamo come si comporterà e com'è questa mappa Qui adesso ci dice che lo sprinting decrementerà al massimo speed over time Beh sono più che altre notizie tecniche, diciamo, niente di storia Poche ghiacchiere e più azione Ah, cominciamo La musica di Prison Il sottofondo ambientale di Prison Non sembra male Sempre Mark Steen E altra varia gente che non ho fatto tempo a leggere Quindi c'è Prison Vediamo subito come sarà Ah Allora, collect 8 photos Questa volta foto La prima volta che abbiamo Ma che cosa abbiamo? Si vede la mano della torcia Vedete? Ah, si faccia sempre spingere Questa è una novità Si vede la torcia Ah Torcia particolare Aspetta che guardo un attimo intorno Ricordo, eh Questo verrebbe essere una prigione Sì, si vede da me Comunque sembra abbastanza illuminata Beh sì Se spengo pure si vede abbastanza Sì, effettivamente Queste sono delle mangiatoie Cosa fa? Tira la cucina Per cavallo Ah Qua La torcia, cos'è? Sembra una torcia Una torcia Ma non si piglia Non è Non con il sinistro Non si può prendere Noi abbiamo già una torcia Quindi che ci facciamo? Vediamo un po' se possiamo lasciare Glowstick Lo spazio No, niente Glowstick Non abbiamo i nostri fidati Glowstick Non c'è Ah, beh Casamai ci scappasse Con un letto vicino Certo, qua i criminali Fanno questo a scappare Tutto a spaccare Saranno già scappati Slender gliel'ha permesso Hanno fatto questo Perché ha visto Slender L'hanno visto? Sì, veramente Qual è lo Slender Che ha rotto le pareti? Ma è tutta bugata Questa prigione Io devo cercare delle foto Per ora non abbiamo visto nulla No Viene andare lungo il corridoio Guarda, guarda le torce Perché è molto luminoso Perché è pieno di torce per terra Buttate per terra Così Come se fossero dei Come si chiamano? Dei Bengala E così Buttatele per terra Vabbè Ci aiutano A vedere meglio Molto Sì, crostrofobico Questa volta direi Alla hospice Una porta? Sì Non si può dire Guarda com'è Ci avrebbe una risposta Una brand Ma io vorrei capire Come sono fatte queste foto È come se è un studio Ah Da direttore della prigione Cos'è? No, lo fanno gli interrogatori Qua Sono le grade Questa stanza è un po' più grande C'è un cancello Forse quella è l'uscita Eh, sarà l'uscita Probabilmente sì Anche se non ci possiamo uscire Ho visto qualcosa a sinistra A sinistra Ah, quella è la famosa stanza Ah, no Non si guarda l'uscita No E allora non la vediamo di qua Questa è la nostra prima partita La mappa è nuova Ci ha da pochi minuti Siamo i primi italiani a farlo Probabilmente Eh, dico lo cieco Ecco, ecco, ecco Una foto Una foto Meglio raccoglierla subito Perché Lo slender compare dietro Ma no, è buicissimo col destro Se spengo la voce Interessante Comunque la foto non Cioè, era completamente nera O scuro Sì, ma non c'è scritto Di solito C'è scritto qualcosa Sì, ma Quindi non stavano neanche su un muro Siamo appoggiati su delle panche Per ora Vediamo Carina sta cosa della torcia Che c'è sulla destra Con la mano Anche se è una torcia Paristicamente strana Non sembra male neanche la mappa Anche se forse è un po' troppo Bugherellata È un po' strana Come pagine così Bugherellata Oh Porca mottana Che era? Avevo Slender già c'è uno da trovare Sì, è così Guarda le corce Queste scritte Queste scritte sono in qualche linguaggio Sono qualche diagramma Che cosa sono Capisco Non conosco il cinese di alcuna Se avessi studiato Purtroppo Ma sono otto foto Però sono piccole Non sono né luminose E ne appena i muri È difficile da trovarle così Tocca a capire la posizione Non deve essere foto No, nel caso di scappassi La voglia è piena dei cesti I cesti non mancano Pieno Oh, un'altra volta Qua è pericoloso Ma c'è, sei visto il coso Ma lui non si vede? Forse siete vigili Eh, te l'ho detto Stava proprio lì indietro Bisogna controllarmi tanto dietro Penso Questo ci fotte subito Non si vede Stava lì Ad attenderci Ovviamente Ma io vorrei vedere un'altra foto Cioè Una è un ritrozzato Un po' pietoso Beh, se già compare Dopo una foto In quel modo Non sembra affatto facile Considerando pure Che queste foto Non sono ben visibili No, non sono molto visibili Io andrei in fondo In fondo Non so se poi Sto a far giro Non posso lasciare anche glostiche Oh Ma Non va giù Perché è tutto buco Sta prigione Sì Non è del fatto Non c'è Oh Quindi quando fa questo Sta dietro al culo Sì, ci seguiamo In qualche modo Ma non corre? Eh, sì Mi sa che è stanco Perché ho premuto troppo da volte Non riusciamo a richiedere la prigione Credo che no Questo mi sa che è sempre Il punto di prima Io Sto a far giro Questa è macella chiusa Sono un coionazzo Mettemi così Eccolo Pancella Ma è diverso Dalle altre mappe Ah, schia Adesso Subito No C'è subito battezzato così Troppo poco Troppo poco Riproviamo subito ragazzi Una pagina Una pagina Una foto di Otto Abbiamo ancora qualche 5-7 minuti Sì Forse ce la facciamo Ah, se va come adesso Eh, sì Sì Basta che avanzano Ma È difficile vedere queste foto È difficile trovarle Ma in modo da una per sbaglio Una per sbaglio E Lo slendice stava assicuri tutto il tempo Sì Iniziato da una pagina Ci ha lasciato un attimo di tregua No, no Fin da subito È molto difficile Trovare una fu la foto Che stava su una panca Qua si mette pure tanto a caricare Interferenza e botto Come quando Da buona tradizione Perdi Rifai Vediamo Che poi qua Un po' di Da sotto la funera Ci stava Invece Durante la prima Non c'è niente No C'è silenzio Come si balla Quindi come innovazione C'è stata la torcia in mano visibile Sì E niente glow stick Ma quello che non neanche neanche nell'ultima app L'avamo già tolto Era una Comodità troppo Era troppo comodo Andiamo Adesso Che ho capito com'è Se qua su questi tavoli Magari ci sta qualcosa Non siamo così fortunati No Ah un tavolo vedete Un tavolo vedete Perché io Il nostro bel cesso Che non ci lascia mai Magari dentro il cesso Trovi qualche foto Infatti Guardiamoci No Non mi sembra Qua questa cella Questa non mi ricordo È molto dispersivo comunque Perché Tutte le celle sono simili Tutte uguali Che ci stanno i bani Ci stanno tutti i muri rotti E quindi Ti ritrovi In una cella Col cesso Il letto E la bandina Non sai se ci sei già stato o no No Non lo sai Quello è il problema Non puoi lasciare niente Dovremmo cercare di capire Più o meno Com'è strutturata la mappa È un po' la hospice questa Ma pure più Più labirintica Mi sembra di hospice Le porte qua non si aprono Almeno è l'unica porta Che abbiamo visto No Non sembrano abirsi Questa è la brand Anesta del Diego Questa è la brand Sembra quasi che non ci siano Queste foto Questo è lo studio del direttore Chissà che fino a fatto O è lo Slend Il direttore Probabilmente La sarà stato lui Eh sì Quando si stanca Se il mostro Inizio Però Beh è bello Vedere lo dietro le sbagli Questa è un'altra stanzetta Però Ma questa è nuova Cos'è? Un'attesa per i criminali Una fontanella E l'altra stanza Noi torneranno E l'altra stanza E l'altra stanza E l'altra stanza Magari sopra lì Eccola una foto Ma io sono nire proprio Ma sono bruttissime Si tratta la lampadina Sono bruttissime Io proseguirei Visto lo Slendy Con quanta cura Ci ha trovato prima Quindi proseguiamo Queste porte sono Non si sono chiuse Eh sì Ma sono molto scure Questa è la stanzetta Del direttore Se noi dovrebbero migliorare Gli oggetti Eh sono bruttarelle 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 Non hanno nessuna immagine E non sono facili da scopare Eh no Perché le pagine Tante volte erano proprio Dei fari una notte Beh lì magari In maniera un po' esagerata Però Diciamo che andiamo Da un eccesso all'altro Sono buchi neri Queste Eh sono pericolosi Eh qua c'è un'altra foto Ecco Stiamo a blu con questa Vedi se non si vede niente Cioè 2 di 8 Questo luogo non mi piace Eeeh Ho messo così proprio Anche se avete lo seletto Anche se avete Ma non lo so ragazzi Rispetto alla La strada L'altro giorno Un'altra volta Che abbiamo fatto La prima botta Subito 8 8 pagine Sì sembra molto più difficile Sembra più difficile Però forse è gestita male La difficoltà Perché comunque Sì Abbiamo queste foto Un po' bruttine diciamo Beh sono tutte nere Non si vede neanche Il disegno Della foto C'è l'immagine Peccato insomma Difficile da trovare Difficile da trovare E lo slendi Già dopo una foto 2 Sì Sì Staccata le calcagne Sì praticamente Cioè non neanche lo vedi Che ti si vede l'antiafferenza Anzi la seconda volta Neanche l'abbiamo visto No La soddisfazione Di sapere cosa ci ha ucciso No Lo scenario non sembra male Anzi No no Lo scenario è sicuramente interessante Bello che la sto fobico Probabilmente faranno Le dovute correzioni Ma forse almeno Per le foto Almeno per farle vedere Almeno per vedere Che non siano nere Non so se è un bug O se è voluto Che siano così Non saprei Forse con le pagine Tipo farle Era troppo facile Magari uno le vedeva Da lontano Sì quello è vero Però Le foto sono un po' anonime Non Potevano caratterizzarle In qualche modo Qualche immagine particolare Insomma L'ambientazione è carina Non è male È illuminato I punti giusti Ci sono anche dei punti oscuri Se si spenge la torcia Alcuni punti Non sono veramente bui Magari come prigione È un po' anonimo È un po' anonimo È un po' strana Perché è tutta bugata Se fosse così È un po' strana Non si capisce bene Cosa si è successo In questa regione Però Magari meno pareti rotte Sembbero state meno Va bene Quindi Magari riproveremo A giocarci Magari faremo un altro video Quando uscirà la versione nuova Tra qualche ora Probabilmente Faremo la prossima versione Va bene Qui The Lost Forgotten Gamers Penso che sia tutto Due tentativi Andati male Ci rifaremo la prossima volta Ci rifaremo la prossima volta E Alla prossima mappa di Slender O forse da questa Ciao a tutti ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti